Nel corso della notte i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un'operazione anticrimine che ha sgominato una pericolosissima associazione per delinquere composta da quattro persone. Dedita la commissione di rapine ai danni di istituti di credito aggravate dal sequestro di persona del direttore della filiale e dall'uso di armi da fuoco. Sono state, nella circostanza attribuita alla banda, 11 rapine commesse nell'arco temporale di un anno per un bottivo complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Tre rapinatori sono romani rispettivamente di 28, 51 e 53 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine tratti in arresto questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Il quarto componente della banda, un pregiudicato di Ladispoli, è indagato a piede libero e non è stato arrestato per le precarie condizioni di salute in cui versa. I tre romani erano già stati arrestati in flagranza di reato il 22 ottobre dello scorso anno mentre stavano per mettere a segno un colpo presso la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di via Pompeo Neri a Roma, in zona Vignastelluti. Quel giorno i tre rapinatori da tempo sotto osservazione dei carabinieri di via Inselci dopo aver lasciato in strada uno scooter rubato da utilizzare per la successiva fuga, si erano appostati all'esterno della banca per commettere una rapina all'apertura mattutina della filiale. Con estremo tempismo i carabinieri erano intervenuti dopo aver notato che due rapinatori avevano impugnato la pistola ed indossato parrucche, scaldacollo e guanti nel momento in cui il direttore della filiale stava sopraggiungendo per effettuare l'apertura della banca. Il terzo uomo si era invece sistemato in posizione defilata per svolgere le funzioni di palo. Dopo l'arresto i tre erano stati trovati in possesso di due pistole, una beretta calibro 9 ed una calibro 7,65. In tasca avevano delle fascette in plastica utilizzate dai malviventi in precedenti rapine per immobilizzare gli impiegati della banca. Dopo l'arresto in flagranze i carabinieri hanno dimostrato, a seguito di minuziosi e approfonditi accertamenti a carico dei quattro malviventi, la loro natura di banda organizzata nell'Associazione per delinquere specializzata nelle rapine in banca, tutte commesse con l'identico modus operandi con cadenza mensile. In particolare la tecnica dei rapinatori prevedeva sempre il loro agguato nei confronti del direttore della filiale prescelta. Poi mentre questi si accingeva ad iniziare l'operazione di apertura, lo immobilizzavano mediante l'uso delle armi e aspettavano quindi che giungessero i dipendenti, i quali venivano legati con le fascette in plastica venendo segregati in una stanza. I malviventi attendevano dunque l'apertura temporizzata della cassaforte e dopo averla svuotata si dileguavano.